La dottoressa James in pediatria. La dottoressa James in pediatria. Ciao. Non riesco a credere che lo dirò. Sam... Te l'avevo detto. No, non mi ha mollato. Lei vorrebbe provare a conoscerti meglio. Dannazione. Non dovevo farmi vedere nudo. È contro i miei principi, ma ho detto che va bene. Perché? Lei crede che io voglia nascondertela. È vero. Non voglio che lo sappia. Mi stai chiedendo di accettare un rapporto basato su bugie e diffidenza? Sì. Quando e dove? Stasera da Venezia alle otto. Cavolo, che mi metto? Le mie scatole di cereali sono tutte in tintoria. Aus, senti. So che sei preoccupato per me. E so anche che questo genere di altruismo non ti viene per niente naturale. Ma non voglio il tuo aiuto. Non ne ho bisogno. Vieni a cena stasera. E sii il solito egoista che sei sempre. Come dire di no?